Hanno regalato un pallone autografato, tute, magliette e cappellini della squadra ai bambini ricoverati in pediatria nell'ospedale Santa Croce Carle di Cuneo. Sono i giocatori dell'AC Cuneo 1905, la squadra di calcio che milita in Serie C. Un'iniziativa nuova che vuole i giocatori e la società stessa più vicina alle persone più presenti sul territorio perché abbiamo notato che ci si era lasciati un po' per la mano ed è giusto che ora si tornino a tenersi per mano tutti insieme. D'altronde lo sport è sempre un'arte nobile e deve unire, deve creare sinergia e quindi è bene stare in mezzo alle persone. Per noi è un piccolo gesto che dà una grossa felicità a questi bambini che per un motivo o per l'altro sono qua e stanno vivendo dei momenti più o meno difficili. Noi quindi vogliamo in questo momento, soprattutto sotto le feste, in questi momenti che dovrebbero essere di gioia per tutti, essere vicino anche a chi purtroppo sta vivendo magari in maniera difficile o diversa questo Natale. Abbiamo voluto portare qualche regalo singolo a tutti i bambini, qualche cappellino, qualche tuta per dei ricordi personali e poi come simbolo da parte di tutta la squadra un pallone autografato da tutti noi da poter tenere qua in reparto ed essere un simbolo per i prossimi anni. I giocatori che appena terminato l'allenamento pur facendo un campionato professionistico con un impegno agonistico importante tra due giorni si sono prestati con estrema disponibilità e generosità, col sorriso e i bambini chiaramente sono molto contenti perché poi il calciatore, il calcio, i doni delle tute, dei palloni hanno sempre un bellissimo impatto sui bambini.